buonasera amici del mio canale siamo in periodo pasquale allora noi come donne del sud ovunque ormai si prepara stiamo per preparare la famosissima pastiera napoletana a modo mio però va bene allora quando vedete tutto questa carreggiata di cose che vi faccio vedere è perché io comunque non fatto solo un barattolo ma ne faccio di più perché noi e nostra usanza distribuire tra gli amici ok allora per adesso prepariamo solo il ripieno ok quindi per il ripieno usiamo 700 grammi di ricotta 500 di zucchero 10 uova una bustina di vanillina una fiera una fiana di fior d'arancio è un barattolo di grano cotto e 150 di cedro e 150 150 di cedro e 150 di buccia d'arancio ok quindi adesso iniziamo vi faccio vedere tutte le varie fasi allora adesso che cosa stiamo facendo come prima cosa siccome a noi a casa non piacciono il grano che cosa facciamo prendiamo tutto quindi prendiamo abbiamo messo nel bimbi solo per una questione di velocità non per altro un po di ricotta del grano e dello zucchero e lo facciamo tutto quando amalgamare ok vi faccio vedere come è uscita per adesso dove andranno aggiungere ancora ancora le uova i canditi guardate ok guardate è proprio una crema viene proprio come se fosse una crema ok dopo vi faccio vedere il resto allora adesso abbiamo sbattuto le uova guardate si vede bene che sono fatte belle schiumose e dobbiamo andare a inserire qui dentro dentro la nostra crema che abbiamo fatto di ricotta di zucchero e di grano che abbiamo tutto frullato perché a noi non piace trovare i pezzi di grano dentro ok andiamo avanti eccoci qui allora adesso al nostro composto di ricotta di grano e di zucchero abbiamo aggiunto anche le nostre uova considerate che questo è una dose triplicata per cui non vi spaventate e vedete la consistenza guardate a noi deve essere proprio crema cioè non è una crema ok adesso ci aggiungiamo la vanillina i fiori d'arancio e la scossa d'arancio di cedro che adesso andrò a frullare poi vi faccio vedere allora adesso abbiamo tritato molto finemente la nostra boccia d'arancio e il nostro cedro e lo andiamo a introdurre nella nostra nella nostra crema di ricotta grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti